Il coordinatore dell'Associazione Ambientalista Mare Amico di Agrigento, Claudio Lombardo, rileva che decine di discariche giacciono sia nel centro cittadino di Agrigento che in periferia. E in riferimento al boschetto della Maddalusa aggiunge, quello che succede dentro il boschetto di Maddalusa è incredibile, ci sono montagne di rifiuti intorno ai cestini. Se non siete in grado di ritirare i rifiuti non mettete i cestini perché questi rappresentano una scusa agli incivili di liberarsi dei rifiuti. Secondo l'amministrazione comunale di Agrigento il 75% degli agrigentini effettua la raccolta differenziata. Questo non è vero, dichiara sempre Claudio Lombardo, perché il dato è calcolato su 20.000 famiglie mentre il numero reale è di 25.000. Ma al di là di questo tutti gli agrigentini sanno purtroppo che la nostra è una città sporca, esistono in giro decine e decine di discariche sia in centro che in periferia. Ma quello che succede dentro il boschetto di Maddalusa è semplicemente vergognoso, conclude Claudio Lombardo.